Il dolore è una funzione essenziale della vita. Senza dolore non ci può essere sopravvivenza. Ma se il dolore diventa cronico, noi abbiamo una condizione che possiamo equiparare ad una malattia. E voglio portare due esempi. L'emicrania, di cui soffre un miliardo di persone nel mondo, soprattutto donne, che si manifesta nell'età infantile, adolescenziale e dura per 40 anni con attacchi disabilitanti che impediscono di lavorare e di svolgere normali attività quotidiane e portano a grande sofferenza. Quindi a cosa serve questo dolore? È un dolore inutile che non porta nessun giovamento al paziente. E facciamo un altro esempio. Il cancro. Se il dolore iniziale può addirittura avvertire della presenza di un tumore. Bene, poi però, quando siamo in una fase terminale, esso porta una sofferenza fisica associata a quella esistenziale di una vita che si spenge. Quindi noi abbiamo affrontato il tema del dolore che si protrae, il dolore cronico, e abbiamo cercato di capire i meccanismi cellulari e molecolari che stanno alla base del dolore cronico. Il dolore cronico che si caratterizza con una ipersensibilità di tutti i nervi che sono coinvolti nell'aria infiammata, nell'aria danneggiata, a sentire stimoli che usualmente sono normali come stimoli dolorosi. Questo fenomeno si chiama allodinia ed sta alla base del dolore cronico. Quindi noi che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che l'allodinia, quindi questa ipersensibilità al dolore, non è prodotta dai neuroni stessi, ma dalle cellule di Schwann, che sono l'imbolucro che sta intorno ai neuroni e che ne proteggono la funzione e li mantengono dal punto di vista nutritivo. Ma svolgono anche quest'altra funzione importante, attraverso un canale ionico che si chiama TRPA1, che è un nome strano, ma che voi tutti conoscete perché è il canale che sente lo stimolo prodotto da una salsa giapponese molto piccante, il wasabi. Bene, questo canale sente lo stress ossidativo prodotto dal danno, dall'infiammazione, lo segnala al TRPA1 del Schwann Cell, le quali lo amplificano portando il segnale ai neuroni e producendo il dolore cronico. Il grant dell'European Research Council che ci è stato assegnato ci consente di svolgere ricerche per capire se questo meccanismo è presente nei vari tipi di dolore infiammatorio, oncologico, neuropatico, emicranico e che quindi potrebbe costituire il bersaglio terapeutico per nuovi farmaci che consentano di vivere ai pazienti che ne sono affetti una vita migliore.